Frank fecero in tempo a entrare per un soffio. Non appena il loro ospite chiuse il chiavistello, i mostri mucca muggirono e si scaraventarono contro la porta, facendola tremare sui cardini. «Oh, non possono entrare», assicurò l'uomo in jeans. «Siete salvi?» «Salvi?» domandò Frank. «Hazel sta morendo!» Il loro ospite si accigliò, come se non apprezzasse il tentativo di Frank di guastare il suo buon umore. «Sì, sì, portatela da questa parte». Tenendo Hazel in braccio, Frank seguì l'uomo all'interno dell'edificio. Nico si offrì di aiutarlo, ma non ce n'era bisogno. Hazel era una piuma e Frank era ancora a carico di adrenalina. La sentiva tremare, perciò almeno sapeva che era viva. Ma aveva la pelle gelida e le labbra avevano assunto una sfumatura verdognola. O forse era lui che aveva la vista appannata. A Frank bruciavano ancora gli occhi per l'alito del mostro e gli sembrava di aver risucchiato un intero cavolo in fiamme da come si sentiva i polmoni. Non sapeva perché il gas su di lui non aveva avuto lo stesso effetto che su Hazel. Forse lei ne aveva respirato di più. Avrebbe dato qualunque cosa per stare al suo posto, se fosse servito a salvarla. Le voci di Marte e di Chris continuavano a strillare dentro la sua testa, incitandolo a uccidere Nico, l'uomo in jeans e chiunque altro fosse a portata di mano. Ma Frank riuscì almeno ad abbassarne il volume. La prima stanza della casa era una sorta di serra. Lungo tutte le pareti erano allineati tavoli ingombri di piante, posti sotto luci fluorescenti. L'aria era satura dell'odore di fertilizzante. Forse i veneziani praticavano il giardinaggio in casa, visto che erano circondati dall'acqua anziché dalla terra? Frank non lo sapeva, ma non sprecò molto tempo a rifletterci. La stanza sul retro somigliava un incrocio fra un garage, un dormitorio scolastico e un laboratorio informatico. A sinistra, addossati alla parete, c'erano innumerevoli computer e portatili accesi, su cui scorrevano le immagini salvaschermo di campi arati e trattori. Accostati alla parete di destra, invece, c'erano un letto singolo, una scrivania disordinata e un armadio pieno di altri capi in jeans e di attrezzi agricoli, come i forcogni rastrelli. La parete in fondo era una grande saracinesca, accanto alla quale era parcheggiata una biga rossa e oro, come quelle che Frank aveva guidato al Campo Giove. Ai lati del carro c'erano due grandi ali piumate, mentre sulla ruota sinistra, arrotolato intorno al cerchio, c'era un pitone maculato che russava di gusto. Frank non sapeva che i pitoni potessero russare. Sperò di non averlo fatto anche lui quella notte, dormendo sotto forma di pitone. «Metti pure qui la tua amica», disse l'uomo in jeans. Frank ha da Joe Hazel sul letto. Le tolse la spada e cercò di metterla comoda, ma lei era inerte come uno spaventapasseri. Il suo viso aveva una sfumatura decisamente verdognola. «Cosa sono quelle specie di mucche?», domandò Frank. che cosa le hanno fatto? «Catoblepi», rispose il loro ospite. Al singolare «Catoblepa», un nome che deriva dal greco e significa «colui che guarda in basso». Si chiamano così perché guardano sempre in basso. Nico si diede una pacca sulla fronte. «Ma certo, ho letto qualcosa su di loro da... da qualche parte». Frank lo fulminò con lo sguardo. «E te lo ricordi adesso?». Nico chinò la testa quasi come un Catoblepa. Io da piccolo giocavo sempre con uno stupido gioco di carte da collezione, mitomagia. E fra le carte dei mostri c'erano anche i Catoblepi. Frank sbatte un po' le palpebre. Anch'io giocavo con le carte di mitomagia, ma la carta dei Catoblepi non l'ho mai vista. Era nel mazzo speciale Africa Estrema. Oh, il loro ospite si schiarì la gola. «Avete finito di... com'è che si dice... fare i nerd?». «Ah, sì, giusto, scusi», replicò Nico. «Comunque, le armi dei Catoblepi sono il fiato e lo sguardo, entrambi avvelenati. Pensavo che vivessero solo in Africa». L'uomo in jeans si strinse nelle spalle. «L'Africa è la loro terra d'origine. Sono stati importati per sbaglio qui a Venezia secoli fa. Avete mai sentito parlare di San Marco?». Frank avrebbe voluto urlare per la frustrazione. Non capiva che importanza avessero tutti quei discorsi, ma se il loro ospite era in grado di curare Hazel, decise che era meglio non farlo arrabbiare. I santi non fanno parte della mitologia greca. L'uomo in jeans ridacchiò. «No, ma San Marco è il patrono di Venezia. Morì in Egitto moltissimo tempo fa. Quando i veneziani divennero potenti, beh, le reliquie dei santi erano una grande attrazione turistica nel Medioevo. I veneziani decisero di rubare le reliquie di San Marco e di portarle qui, per custodirle nella basilica. Trafugarono il suo corpo in una cesta di carne di maiale». «Ma, petti disgustoso!», commentò Frank. «Sì», concordò l'uomo con un sorriso. «Il punto è che non puoi fare una cosa del genere senza subirne le conseguenze. Senza volerlo, i veneziani trafugarono anche qualcos'altro dall'Egitto. I catoblepi! I mostri giunsero qui a bordo della stessa nave che trasportava le reliquie, e da allora proliferano come ratti. Adorano le radici magiche velenose che crescono da queste parti, quelle pianticelle di palude maleodoranti che spuntano dai canali. rendono il loro fiato ancora più velenoso. Di solito i catoblepi ignorano i mortali. Ma i semi-dèi? Soprattutto i semi-dèi che intralciano il loro cammino!» «Afferrato il concetto!», sbottò Frank. «Ora ci dica, può curarla?» L'uomo fece spallucce. «Può darsi!» «Può darsi?!» Frank dovette attingere tutta la propria forza di volontà per non stendere quel tizio con un pugno. Posò una mano sul naso di Hazel. Sembrava non respirare più. «Niko, ti prego, dimmi che è in quella specie di trance mortale a cui sei ricorso nella giara di bronzo!» Nico fece una smorfia. «Non so se Hazel è in grado di farlo. Tecnicamente suo padre è Plutone, non Ade. Perciò...» «Ade!» gridò il loro ospite. Arretrò, fissando Nico con disgusto. «Ecco cos'è questo odore! La progenie degli inferi? Se l'avessi saputo non vi avrei mai fatti entrare!» Frank si alzò. «Hazel è una brava persona e lei ha promesso di aiutarla!» «Non ho fatto nessuna promessa!» Nico sguainò la spada. «Hazel è mia sorella!» ringhiò. «Io non so chi lei sia, ma se può curarla deve farlo! O che il fiume Stige mi aiuti!» «Oh, bla, bla, bla!» L'uomo fece un gesto con la mano. E all'improvviso, al posto di Nico di Angelo c'era un vaso con una pianta alta un metro e mezzo, con le foglie verdi e cadenti, ciuffi di barbe ispide e mezza decina di pannocchi di gran turco maturo. «Ecco quello che ti meriti!» sbuffò l'uomo agitando un dito contro la pianta. «Non mi faccio comandare a bacchetta dai figli di Ade! Almeno adesso te ne starai un po' tranquillo!» Frank fece un passo indietro e per poco non inciampò nella sponda del letto. «Che cosa? Perché?» L'uomo inarcò un sopracciglio. Frank mise una specie di pigolio tutt'altro che coraggioso. Era così preoccupato per Hazel da dimenticare gli avvertimenti di Leo sul tizio che stavano cercando. «Lei sei un altro figlio di Ade!» «Marte!» si affrettò a precisare Frank. «Sono un figlio di Marte!» Triptolemo tirò su col naso. «Beh, non molto meglio. Ma forse ti meriti qualcosa di più del gran turco. Il sorgo forse? Il sorgo è molto carino!» «Aspetti!» lo supplicò Frank. «Siamo venuti qui in pace! Abbiamo portato un regalo!» Molto lentamente infilò una mano nello zaino e tirò fuori il libro rilegato in pelle. «Questo appartiene a lei?» «Il mio almanacco!» Triptolemo fece un largo sorriso e afferrò il libro. Si mise a sfogliare freneticamente le pagine, saltellando dalla contentezza. «Oh, ma è fantastico! Dove lo avete trovato?» «A Bologna. C'erano dei…» Frank ricordò appena in tempo di non dover parlare dei nani. «Dei mostri terribili! Abbiamo rischiato la pelle, ma sapevamo che per lei era importante. Perciò, ecco, non è che potrebbe… ritrasformare Nico e curare Hazel?» «Come hai detto, scusa?» Tripp sollevò lo sguardo dal libro, interrompendo la lettura. Una cantilena sui programmi di Semina delle Rape, che recitava a mezza voce. «Peccato che ella non fosse lì,» pensò Frank. «Sarebbe andata d'accordissimo con quel tizio.» «Oh, curarli, dici?» Triptolemo ridacchiò in tono di disapprovazione. «Sono grato del libro, naturalmente, e non ho problemi a lasciare libero te, figlio di Marte. Ma fra me e Ade corre cattivo sangue da troppo tempo. Dopotutto, devo i miei poteri divini a Demetra!» Frank cercò di concentrarsi e ragionare. Ma era difficile, con le due voci che gli urlavano nella mente e il veleno dei catoblepi che gli dava ancora le vertigini. «Oh, Demetra, la dea delle piante!» riuscì a dire. A lei stava antipatico Ade perché…» A un tratto ricordò uno dei vecchi miti che aveva ascoltato al Campo Giove. «Sua figlia, Proserpina! Persephone!» lo corresse Tripp. «Preferisco il greco, se non ti dispiace!» «Uccidilo!» strillò Marte. «Adoro quest'uomo!» strepitò Ares di rimando. «Uccidilo lo stesso!» Frank decise di non prenderla come un'offesa. Non voleva essere trasformato in una pianta di sorgo. «Va bene!» Ade ha rapito Persephone. «Esatto!» confermò Tripp. «E così, Persephone era una sua amica?» Tripp fece un verso di sdegno. «Ero soltanto un principe mortale all'epoca. Persephone non mi si filava per niente. Ma quando sua madre Demetra andò a cercarla, perlustrando il mondo intero, pochi accettarono di aiutarla. Eccate offrì le sue torce per illuminarle la strada di notte. E io... beh, quando Demetra venne dalle mie parti in Grecia, la ospitai. La consolai, la sfamai e le offrì la mia assistenza. All'epoca non sapevo che fosse una dea, ma la mia buona azione mi ripagò. In seguito, Demetra mi ricompensò facendomi dio dell'agricoltura.» «Addirittura?» esclamò Frank. «Congratulazioni!» «Fantastico, vero?» «Comunque, Demetra non è mai andata d'accordo con Ade. Perciò, come potrai comprendere, io devo schierarmi dalla sua parte.» «I figli di Ade!» «Montaglia! Hai presente il re dell'Ascizia, Linco?» «Quando cercai di insegnare ai suoi sudditi come coltivare la terra, ammazzò il mio pitone destro!» «Il suo... pitone destro?» Therip raggiunse impettito la bigalata e balzò a bordo. Tirò una leva e le ali si misero a sbattere. Il pitone maculato sulla ruota sinistra aprì gli occhi. Cominciò a torcersi, avvolgendosi intorno all'asse come una molla. La biga si mise in azione con un frullio d'ali, ma la ruota destra non si mosse. Così Triptolemo non fece altro che roteare su se stesso, con la biga che lo sballottava su e giù, come una specie di giostra difettosa. «Visto?» disse mentre roteava. «Non funziona! Da quando ho perso il mio pitone destro non sono più riuscito a spargere nel mondo il verbo dell'agricoltura. Non di persona, almeno. Ormai mi sono rassegnato a tenere corsi online.» «Davvero?» Frank era sbalordito. Therip balzò giù dalla biga ancora in movimento. Il pitone rallentò fino a fermarsi e tornò a ronfare. Il dio raggiunse la fila dei suoi computer. Digitò qualcosa sulle tastiere e gli schermi si attivarono, mostrando un sito internet color oro e rosso cupo, con l'immagine di un contadino felice con la toga e il berretto di una marca di trattori che se ne stava dritto in mezzo a un campo di grano con una falce di bronzo in pugno. «Università agraria di Triptolemo!» annunciò con orgoglio il dio. «In sole sei settimane potrai laurearti in agraria e abbracciare l'unica, straordinaria ed eccitante, vera carriera del futuro! L'agricoltura!» Frank percepì distintamente la goccia di sudore che gli scorreva lungo la guancia. Non gli importava un accidenti di quel dio sciroccato né della sua corso di laurea online. Ma Hazel diventava più verde ogni momento. Nico era una pianta di gran turco. E lui era solo. «Senta, noi le abbiamo riportato l'almanacco», disse. «I miei amici sono molto simpatici. Non somigliano per niente ai figli di Ade che ha conosciuto. Non c'è un modo per...» «Trip schioccò le dita. Ho capito dove vuoi arrivare». «Davvero?» «Ma certo! Se curo la tua amica Hazel e se ritrasformo il tuo amico Nicolas...» «Nico?» «Se lo ritrasformo in semidio...» «Frank esitò?» «Sì?» «Allora tu, in cambio, resterai a studiare agraria con me!» «Un figlio di Marte come apprendista? È perfetto!» «Ah, saresti il volto ideale per la mia campagna! Forgeremo le spade in vomeri d'aratro e ci divertiremo un mondo!» «A dire il vero...» Frank cercò disperatamente di escogitare un piano alternativo. Ares e Marte strillavano nella sua testa «Spade, fucili, esplosioni!» «Se avesse rifiutato l'offerta di Trip, probabilmente il dio si sarebbe offeso e lui avrebbe fatto la fine del sorgo, del frumento o di chissà quale altro cereale. Se quello fosse stato l'unico modo per salvare Hazel, allora sì, certo, lui avrebbe acconsentito alle richieste di Trip Tolemo e votato la propria vita all'agricoltura. Ma doveva pure esserci un'altra soluzione. Frank si rifiutava di credere che le parche lo avessero scelto per quell'impresa soltanto perché si iscrivesse a un corso online sulla coltivazione delle rape. Poi gli cadde l'occhio sulla biga rotta. «Ho un'offerta migliore», propose. «Io posso aggiustarla». Il sorriso di Trip si spense. «Aggiustare la mia... biga?» Frank si sarebbe preso a calci. Che diamine gli era saltato in mente? Non era mica Leo. Non era nemmeno riuscito a capire come liberarsi da quelle stupide manette cinesi. Ed era già tanto se riusciva a cambiare le batterie del telecomando della TV. Non poteva aggiustare quella biga magica. «Andrò a cercare il modo di sistemare la biga», continuò. «In cambio, lei rimetterà in sesto Nico e Hazel. Ci lascerà andare in pace. E ci darà tutto l'aiuto che potrà per sconfiggere le forze di Gea». Trip Tole morise. «Cosa ti fa credere che io sia in grado di aiutarvi contro Gea?» «Ce l'ha detto a mandarci qui. Hazel è una sua prescelta». Ogni traccia di colore scomparve dal volto di Trip. «Ecate?» Frank sperò di non aver esagerato. Di certo non sarebbe stato bello avere anche Ecate come nemica. Ma se Trip Tolemo ed Ecate erano amici di Demetra, forse il suo nome sarebbe servito a convincerlo. «È stata Ecate ad aiutarci a rintracciare il suo almanacco a Bologna», continuò il figlio di Marte. «Voleva che glielo restituissimo perché… beh, probabilmente sapeva che lei ha delle informazioni utili per attraversare la casa di Ade nell'Epiro». Tripannui. «Sì, capisco. So perché Ecate vi ha mandati da me». «E va bene, figlio di Marte. Vai a cercare il modo di aggiustare la mia biga. Se ci riuscirai, farò tutto ciò che mi chiedi». «In caso contrario…» «Lo so», brontolò Frank. «I miei amici moriranno». «Proprio così», confermò Trip in tono allegro. «E tu diventerai un delizioso appezzamento di sorgo».